Io sono Ian Mario, sono l'amministratore delegato della Renzo Marinai. Ho voluto portare il Chianti Classico perché il Chianti Classico è un pochino, secondo me, il biglietto da visita di un'azienda, nel senso che nelle tre tipologie abbiamo il Classico, la Riserva e la Gran Selezione, e il nostro Chianti Classico è fatto come la Riserva con una piccola percentuale di Cabernet Sauvignon, proprio perché il Cabernet Sauvignon nella conca d'oro di Panzano viene una cosa meravigliosa. Quando un cliente viene da noi per degustare un vino, io cerco sempre di trasmettere la passione che c'è dietro. Il mero assaggiare il vino nel calice, secondo me, non racconta tutto. È importante fare visitare l'azienda, far visitare la cantina, spiegare la filosofia dell'azienda. Queste cose aiutano poi a fare in modo che la persona che viene a visitarci, il visitatore, si rende conto della filosofia aziendale. E poi, nel momento in cui prova il vino, ha già un piccolo bagaglio di informazioni che gli fanno capire meglio il prodotto che lui sta provando. Questo è importante per noi.